Fratelli e sorelle biancoleri, salve a tutti. E allora il ministro Spadafore dice che esiste un piano per concludere questo campionato. Questo campionato ripartendo intorno a fine maggio e inizio giugno, se la situazione sanitaria lo consentirà, cosa che io dubito, e giocando ogni tre giorni, dicevo, fino a metà luglio praticamente, giocando ogni tre giorni di terminale queste 12 giornate, più le partite del recupero, quasi 13 giornate diciamo, a porte chiuse, con dei paletti, dice lui, per la sicurezza, venendo un po' incontro alle richieste di gravine di società che sono vicine a scomparire, presse dai debiti, con i diritti di V tutti da ridiscutere per un'eventuale sospensione definitiva del campionato, insomma, il sistema calcio vicino al collasso, Spadafore sembra che voglia venire incontro alle richieste di gravine, forse si va verso una riapertura sempre se, ripeto, solo se la situazione dovesse migliorare gradualmente. Giocando ogni tre giorni, conclude il campionato, intorno a metà luglio, e poi tra fine luglio e primi di agosto, giocare alle coppe europee, così dice l'UEFA, magari con partite di eliminazione diretta, magari con dei campi neutro, con dei campi neutrali, non lo so, la situazione sembra un po' tutta campatenaria, però è chiaro che lo Stato si sta accorgendo che il calcio è una delle sue entrate maggiori nelle proprie casse, qui infatti dovrà bene ridiscutere anche la legge sulle scommesse, la legge sulle scommesse se non la ridiscute, lo stesso sistema calcio rischia di non sopportare questa catastrofe e molte squadre rischiano veramente di dire addio, di dire addio, non parlo di iscrizione al campionato, parlo proprio di fallimento, per questo si dovrà anche ridisegnare la legge per le scommesse, per le sponsorizzazioni delle scommesse. Il calcio, dicevo, si sta accorgendo il governo come sia importante per le casse, imbarba ai morti e a tutto quello che sta succedendo, si cerca di fare il cosiddetto show must go on, però in questo momento sono tutti discorsi campatenari, perché bisogna vedere come andrà l'evoluzione di questa pandemia. Sicuramente la cosa positiva è stata, sono stati i paletti di Conte, i paletti del presidente Conte, alle società che volevano riprendere gli allenamenti per mettersi avanti in caso di ripresa di questo campionato, per mettersi avanti agli altri con la preparazione. Vedi la Lazio di Lotito, la Lazio del fascistone, che voleva riprendere già da subito, è stata stoppata fino al giorno 13, non se ne parla, poi vediamo, così dice il governo, perché quantomeno se proprio si deve riprendere, e si deve riprendere tutti nello stesso momento, bisogna allenarsi e riprendere tutti nello stesso momento, non esiste una squadra che inizia due o tre settimane prima di un'altra, che qua ci sono preparazioni da ricominciare da capo completamente, anche perché devi fare una preparazione che ti consenta poi di giocare ogni tre giorni, giugno, luglio, agosto, Coppe Europee, manco si finirà che si riprenderà il prossimo campionato subito, fine agosto, poi ci sono gli europei, gli olimpiadi, perciò, visto che le vacanze le stanno facendo praticamente ore i calciatori, si riprenderà non stop per 14 mesi praticamente, non stop, cioè c'è da fare una preparazione seria, seria, cioè tutti devono partire con le stesse possibilità, caro Lotito, cari De Laurentiis, non potete partire prima degli altri, mi auguro, sono questi, e mi auguro anche che i giocatori della Juve abbiano la decenza di tornare in Italia, quando ci si accorgerà che si sta riprendendo, perché ripeto, devono fare la quarantena una volta tornati in Italia. Detto questo, ci sono due cose che voglio lodare, lodiamo i giocatori dell'Atletico Madrid che si decurtano lo stipendio del 70%, e pagheranno lo stipendio ai dipendenti della squadra, i dipendenti della squadra che sono in cassa integrazione, pagheranno i calciatori lo stipendio, ed è una ottima iniziativa, bravissimi, e poi un grandissimo applauso, veramente un inchino, un inchino al grande Carlitos Tevez, che si dimostra, come sempre, uomo del popolo, uomo che viene dalla strada, con i valori di un uomo che viene dalla strada, che viene dal nulla praticamente. Parole sue, noi calciatori non moriremo sicuramente di fame e possiamo rinunciare anche a un anno di stipendio tranquillamente, siamo dei privilegiati, parole di Carlitos, siamo dei privilegiati, per me io sono disposto a tagliarmi lo stipendio di un anno, se la società vuole. Noi calciatori possiamo campare benissimo, guardiamo al popolo come sta il popolo, aiutiamolo, aiutiamolo e decortiamoci lo stipendio di un anno. Carlitos, non so ovviamente se i tuoi compagni andranno dietro di te, se la società andrà dietro e tante altre cose, insomma, Carlitos Tevez, come sempre, si dimostra, uomo grandissimo, uomo del popolo, e peraltro un calciatore che mi è rimasto particolarmente nel cuore, nonostante le due sole stagioni in maglia bianco-nera, ma tecnicamente mi ha sempre fatto impazzire, ma questo batte tutto quello che ha fatto in due anni, in due anni di Juve. Ah, fossero tutti così, fossero tutti come te Carlitos, grande, 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 bravo Carlitos, ragazzi, noi ci sentiamo e mi raccomando, a casa, a casa eh, state a casa, 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 è dura, ma ce la possiamo fare, mi raccomando, fino alla fine.